Oh, guardate! La nuvola nera ha ricoperto il cielo e ha oscurato completamente la luce del sole. Non ci posso credere. Gio, signore, avete detto che stanno cercando di risuscitare la divinità del male. Ne siete sicuro? Diversi secoli fa, mentre l'umanità prosperava, Hanslasax, divinità della distruzione, fu sul punto di sterminare la stirpe umana. Fino ad oggi è rimasta imprigionata da quattro sigilli. Secondo le antiche scritture, quando il primo verrà spezzato, si risveglierà dal suo torpore e con la sua potente linfa vitale genererà delle nubi oscure. Ognuna delle quattro famiglie reali custodisce uno dei quattro sigilli. Il primo, quello protetto dalla famiglia reale di Judas, è stato spezzato. E ora l'intero genere umano rischia nuovamente di essere sterminato. Ma un gran sacerdote, questa è una tragedia! Com'è possibile che qualcuno voglia risuscitare la divinità del male? E tra tutti proprio Kalsu non riesco a spiegarmelo. Se è così, sono certo che gli altri tre lo aiuteranno nell'impresa. Kalsu? Scusate, padre. Di chi si parla? Chi è Kalsu? Uno stregone molto potente. È stato il miglior discepolo di Dark Schneider. E col tempo finì per diventare il suo migliore amico. Combatté al suo fianco nella guerra scatenata dallo stregone leggendario. La sua magia è proverbiale quanto quella del suo maestro. Anzi, si dice che sia addirittura superiore.